Madonna, ma guarda, ma guarda, gli fanno l'applausi, gli fanno l'applausi, gli fanno, ma sì, bravi, 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 davvero, bravi, 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 guarda che su dice, guarda che su dice anche stasera, a chi tocca, a me, 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 a chi tocca, a me. No, 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 no. E ci dava un po' di sé senza chiedere che sì. Ho fatto tardi un'altra volta. Oh ragazzi, non mi riesce a... Perché noi si stavamo pensieri, vero? E c'ho una sesta di avono, non mi riesce. C'è le fie che mi aspettano e io arrivo sempre tardi. Parla piano, sono tutte qui le fie, guardi. Sono stato troppo veloce? No, valla più piano, tanto non sa metà furia. Lo son sa furia, io garbo un mondo a queste donne e mi fanno sempre trovare. Sono arrivato tardi. Volevo dire, ma che è venuto un motorino anche stasera? No, sono venuto in macchina, non lo vede, c'ho l'autoradio. Ah no, mi sembrava che fosse un motorino a me. No, e l'autoradio l'avevo di là quell'altra volta, ora lo di qua, me lo dica se parlo veloce. No, 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 vedo che c'è un autoradio ultimo modello, è un MP3 questo, è un MP3. No, questo c'è le music a sette. C'è, ci vanno le music a sette. C'è quelle da 30, da 45 e da 90. E lei? Io c'avevo le fie, c'avevo lo Schenke, quelle si ballava così. Sulle cassette, su una cassette. E dalla parte di là, quando si girava, tu c'hai il pulsante, si girava... C'era l'autoreverse. No, che reverse, no, lo giravo io. E c'avevo lenti, c'avevo Fausto Fafetti, perché alle fie Fausto Fafetti ti garba. Adesso siamo in macchina e tiro giù il ripartabile. Io sono curioso. Sto tanto ai freni a mano perché mi dannoia. Parla piano, scusi, scusi. Parla piano. Sì. Vorrei sapere, lei, che macchina c'ha? Lei, lei. Chi? Io? No, è chi? Io. Lo sto chiedendo a lei. Che è? Io? Ah, sì. La macchina ce l'ha a lei? L'ho comprata una macchina nuova, nuova, nuova. Che ha comprato? L'ho... Che macchina ha comprato? L'ho pagata 4 milioni. 4 milioni una macchina? 4 milioni una macchina è roba. Ma in 4 o 5 mesi la pago. Come quella paga? Quanto guadagna lei? 400 euro in me... 400 mila litri in mese. 400 mila litri. Allora, a parte quello che l'ha pagata in lire, che macchina ha comprato lei? Il 112 Elegant, l'è uscito ora dalla casa. Ultimo modello. Il senso bevo il rossantico mi dà a noi. Le lo vedo, lei lo beve il rossantico. Allora, sono andato ai dancing e la settimana scorsa sono broccato una fila. Oh, l'ha beccato. Lei l'ha beccato a me. Chi l'ha beccata? Lei l'ha beccata? Lei l'ha beccata? Chi? Io? Lei. Ah, chi? Lei? Lei? No, lei, volevo dire. Chi l'ha beccata la fila? Lei? Io. E chi l'ha beccata? Io? Ma l'ha beccata lei? Oh, l'ho beccata io. E tu becchi le fila e tu non mi dici nulla? Oh, l'ho beccata io. Lei, lei... Oh, oh. E chi ha bevuto il rossantico? Oh, l'ho bevuto. Parla piano. D'arretta, bevi il vermouth e ti fa meno male. Parla piano. Oh. Lei, 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 ha beccato una fila. Guarda, no, una fila l'ha beccata a me. Oh, mi racconti com'è successo. Che è successo è che lei mi ha guardato e mi ha detto che sei libero a me. E lei? Io ho detto... A chi? Io? Lei gli ha detto sei libero. Lei a me mi ha detto. E lei? Lei a me mi ha detto, non mi fai alterare se no parlo troppo veloce. Non so' arrabbi. Lei a me mi ha detto... Lei gli ha detto sei libero. Ah, io? O lei? Pesta bello. Pesta fia. Parla, diciamo il pane in pane. Lei ha detto sei libero? Mi ha detto lei sei libero e io ho detto... E lei che gli ha risposto? Io ho detto sì sono libero. E lei? E io ho detto te e lei mi ha detto sono libero anch'io. E allora? Mi ha detto perché non ci occupiamo. E lei? Mi ha detto è che siamo due cesti io. Ma per piacere. Le stiamo preoccupate il cesto. Ma lei allora l'ha beccata o no questa fia? Lei, lei, lei. Chi? Io? Ma sì, lei. Oh, mi ha detto lei l'ha beccata o me. Va bene. Ci siamo beccati. Se l'ha preso l'appuntamento. Lei l'ha fissato con me e io ora devo andare da... L'ha fissato con lei. Lei l'ha fissato con lei. Chi? Io ho fissato. Ma sono fissato? Io non sono fissato. Non l'ho bevuto. Lo è... Va bene. Ecco. Allora, lei avete... Non dormo più. Sono tre notti e non dormo. Ma perché è preso dalla frenesia? Chi è? Io? Chi? Io? Lei? E questo mi ha detto che... Siamo a frenesia. Siamo a fie. Sì. E hai detto figlio alla frenesia? Allora... Chi d'è? Lei ha conquistato una fia. Lei l'ha conquistato. Oh, è calmo io. È calmo mia. Lei? Io calmo. Allora lei mi ha conquistato. Sono tre notti. Un dormo. Fammi parlare a piano. Le tre notti. Che un dormo? Allora sono andato. Sono andato da lei. Alla porta. Ero senza occhiali. Pigeavo la porta. Forte. E non c'era verso aprirla. E la porta non sapriva? Io la pigeavo e non c'avevo gli occhiali. C'era un biglietto ma non leggevo. Pigeavo e non sapriva. Allora lei ha preso gli occhiali. Chi? Io? No, ma lo sono fatto... Per il ritmo. Mi lo sono fatti portare gli occhiali. E ho aperto la porta. E perché non sapriva la porta? E c'era scritto tirare. E io... C'era... E un sapri... Allora. Allora. Ho sognato e allora sono montato in questo sogno. Gli sono montato addosso due volte. Nel sogno? C'è fatto l'amore due volte in una notte. Due volte in una notte nel sogno? Chi? Io? Sì, ero sopra, ho fatto l'amore due volte. Ma non c'è da essere... E' preoccupato? Sono preoccupato, sì. Ma perché preoccupato? Due volte l'amore in una notte. Ho detto, bah, non sarò mia bisessuale, eh. Ma basta, 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 basta. Ascolta, ma le cureggi pesano. No, no, questa battuta non la voglio. Questa battuta non la voglio. E me ne accorgo da me che pesano. E me ne accorgo da me che pesano. Ma se ne vada, se ne vada, se ne vada. Sì, io? Sì, sì.